Ciao amici di Playa Latina Web TV, siamo ancora a Claudia Loretta di Salsa Caribe Dance di Ravenna, una scuola di Bali Caraibici e non solo. Abbiamo iniziato la settimana scorsa lo studio dei passitos, ne vediamo un altro che si chiama 3 stress. Ovviamente i passi... Scusi eh, però vabbè che Natale è passato, vi ha mangiato e bevuto. È il CCQ. Brava a te, volevo vedere se stavi attenta. Quindi si chiama? CCQ. Ok, andiamo alla spiegazione. Ok, detto questo partiamo sempre con il nostro piede sinistro, quindi sia per la donna che per l'uomo. 1, al tempo 2 è un piccolo passettino indietro e al tempo 3 vado a chiudere col mio sinistro. Rifacciamo e diventa 1, 2, 3. Stessa cosa con l'altra gamba, scavalco. 5, 6, 7. Sembra difficile ma lo è. Ok? Lo rifacciamo dall'inizio. 5, 6, 7. Subito il CCQ eh. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. Lo rifacciamo girandovi la schiena. Ci mettiamo anche sempre una base mambo, partendo sempre col sinistro. Via. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. Ora. 1, 2, 3. 5, 6. Ancora. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. Base. 1, 2, 3. 5, 6 e 7. Ok? Detto questo, provatelo a fare anche voi. e poi ci vediamo. Ciao ciao! Ciao ciao!